Allora, il racconto dell'Anatolia. Andiamo a vedere. Antiochia, Antiochia, pardon. Eccoci qua. La meraviglia. Serata assolutamente bella. Con, vedete, kebab, burger open, splendido. La grafica verde, il frigo, la Coca-Cola. Facciamo vedere intanto solo il tavolo dove poi la pita verrà iniziata o forse questa sarà la prossima. La mia è già dentro? Sì, possiamo fare, tranquillo. Sì, sì, stiamo facendo, dobbiamo aspettare 5 minuti in torno, dopo calmo, a facerlo subito. Pensavo... Tranquillo. No, figlio. Posso inquadrarla, mi diceva o no? No, 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 non ti preoccupare. A lei, posso farla vedere o non vuole? Lei col suo viso dico, non vuole? Alla mio viso? Sì. You speak English? Yes. Ok. Again, I'm a professional journalist. Good evening. I have a website. Can I see? Yes, of course. I make video, I'm making a video. The video becomes a free publicity. So, if you like, I show your, your, if you like, I show your, your, sorry, if you like, I show your face. If you don't like, I don't show your face. Here I was tonight in a, in a laboratory of pastry, for example, but I show you, I show you, for example, the chief, the chief, I don't remember. Sindaco? I don't remember. Ok. Ci vediamo. Grazie mille. Io lo so. Va bene. Ciao ciao. Le faccio vedere una mia intervista al Sindaco di Reggio, sempre che pesca rapidamente. Mi dà la password del Wi-Fi? Ce l'ha? È troppo lungo facciamo, se c'è QR code la facciamo. No, è più che altro per il computer. Allora... Sul computer. Vedi? Questo qua. Questo qua. Magari se me la condividesse. A me so che prenda, eh, perché sono delle cose che io non so neanche fare. Questa qua è una mia intervista al Sindaco di Reggio Emilia. Allora, ha aperto il sistema. Aspetti, aspetti. Oppo 57. Aspetti, aspetti. Mi piacerebbe che provassi a condividere per capire se si riesce. Quindi mi ha detto, eh? Oppo, vai a fare? No. Qua non c'è. Eh, fai la seconda volta? Sì, sì, ma... Aggiorni. E aggiornare così, uno, due, due... Ah, chiudo e apro? Sì. Ok. Dovrebbe essere Oppo. No, è che dovrebbe essere... Facciamo così, faccio preferenze rete che mi viene in un altro modo. Forse. Aspetti un attimo. Allora, nome rete. No, ma devo metterlo io manualmente. Ah, eccolo qua. Oppo. Esatto. Cifra. Baran. Aspetti, aspetti che... Ok. Minuscolo? Sì. Baran. Bologna. No, io... La mia... Va bene, ma... La mia... Il piacere che volevo chiederle... Come si chiama? Mi scusi? Mi chiamo Baran. Ah, scusi. Baran, il piacere che volevo chiederle come prova, ma lo facciamo anche dopo. E se da un telefono, perché io non lo so fare e vorrei imparare. La condivisione la passo. Quella, no? Dal suo smartphone. Riusciva a vedere il mio computer? E a fare condividi? Perché io non lo so... Alcuni lo fanno. Aspetti che guardo se ha preso. Perché magari non ha preso, eh? Anzi, stacco. Buon... Buon...